Torino Comics sono qui! Eccomi! Quanta gente! Quanta brutta gente! Ciao! Ah, guarda! Ci sono i personaggi di Street Fighter e di... in 8-bit! C'è anche i Pokémon! Anche Mario! Super Mario! Super Mario! Allora, facciamo una cosa, io filmo te, tu filmi te! Aspetta, lo ti dai in faccia! Quello imbecille passa in mezzo! Cretino deficiente imbecille! Ne approfitto anch'io, guardi! Solo a lui? Va va! Facciamo 3-3, va! Questo tizio qua che sta facendo un gameplay! Spiderweb! Vedi, si vede? Non si vede qui! Ma come? Manu, Wast! Unta, unta! Come si corre, lo sapete? Eh, come si corre? Con mouse! Ma non puoi correre! Qui? Dove vai? Ma sei deficiente! Allora? Dove vai? Lo voglio addosso! Ma sei online! Eh, è online! Mi stanno soccando! Mi stanno soccando! A questo Deadpool! Ah! Porta room! Porta room! E belle donne! Belle donne! Quanto belle! Mi raccomando! Controllo bene perché sennò... Se questo qua è un furvetto! Controllo qualità! Controllo qualità! Da parte del capitano! Da parte del capitano! Chiaramente! Io dopo! Sono di fai e poi se non vanno bene te ne passano! Una volta finito! Una volta finito! Belle schiaggia Fido! La vita dei pirati è fatta, prima! Enfermati! Così è la famiglia Deadpool Sì, sì, questo qua sicissimo Quando praticamente arrivo a fa Comunque, poi va bene, va bene Vi venete, me ne vado Dove cazzo vai, coglione? Dessuno si ama Allora, tiro B, portate di spesso Potete baciarmi il culo Ciao Sono un esercito Marco, devo andare A difendere a Roan C'è il Clash of Clans qua, è un villaggio Guarda qua Porco Paglierino Ha, 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 ha